Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il telegiornale sportivo di Per Sempre News. Calcio, inamichevole l'Italia batte 2 a 0 l'Eguador grazie ai gol di Pellegrini e di Barella. Calcio, inamichevole l'Italia batte Davidovic, Fokina 6-3, 6-4. Medvedev batte Norrier 7-5, 6-1. Oggi Lorenzo Musetti ben scelto. Nella WTA Paolini battuta dalla Navarro 2-6, 6-3, 0-6. Negli altri campi Sacarri batte Iastremesca 7-5, 6-4. A Vaniezan batte la Jaber 6-1, 6-2. A Venezian Goof batte Dodin 6-4, 6-0. Sviatek batte Noscova per 7-6, 6-4, 6-4. Rohan e Matthew Evdev battono gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori con il punteggio di 4-6, 7-6. Match valido per la Ray ZP di doppio del primo turno dei Miami Open. Formula 1. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno chiuso in prima e seconda posizione il GP d'Australia sul tracciato di Albert Park. Una festa a Maranello e per tutta l'Italia che alla vigilia di questa corsa vedeva Max Verstappen vittorioso sicuro. Ottimo è stato il sorpasso dello spagnolo sull'olandese, costretto poi a ritiro. Dopo l'operazione che l'ha costretto a saltare il GP di Arabia Saudita, Carlos Sainz, ha potuto festeggiare la vittoria, ricordando che fino a giovedì scorso è stato in dubbio per questo gran premio. La seconda delle Ferrari se calcoliamo il GP di Singapore. In terza posizione è giunto Lando Norris della McLaren. Nascar, William Byron batte Christopher Bell e vince la gara della C.O.T.A. della Nascar Cup Series. Prima affermazione ad Austin per il numero 24 di Handling Motorsports, portacolori della Chevrolet. Terza posizione per Ty Gibbs su Toyota. IndyCar. Alex Palau ha vinto la prima edizione della One Million Challenge al Thermal Club, evento non valido riservato ai protagonisti della NTT IndyCar. MotoGP. Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto il GP del Portogallo, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac ha preceduto Enea Bastianini con la Ducati Ufficiale e Pedro Acosta con la KTM. Maverick Vinales conquista la sprint race del Gran Premio del Portogallo. Il pilota spagnolo dell'Aprilia sul circuito di Portimao ha preceduto la Ducati del team Gresini di Marc Marquez. Terzo è arrivato Jorge Martin con la Ducati Pramac. Quarto Pecco Bagnaia. Moto2. Aaron Canet vince il Gran Premio del Portogallo a Portimao. Lo spagnolo precede Roberts e Manuel Gonzales. Settimo vietti. In Moto3 Daniel Olgato vince il GP del Portogallo davanti ad Antonio Rueda e Ivan Ortola. Superbike. Alvaro Bautista vince gara 2 davanti a Nicolò Bulega e Toprak Razgatioglu. Kei De Wolf vince gara 1 del GP di Spagna. Lintu XNADU. Battuti Simon Legenfelder e Lucas Cohen. Andrea Adamu vince gara 2 davanti a De Wolf e Legenfelder. MXGP. Jorge Prado ha dominato gara 1 del GP di Spagna. Battuti Geyser ed Erling. Jorge Prado si è aggiudicato anche gara 2 del GP di Spagna. Team Geyser e Romain Febbre sul podio. Ciclismo. Madas Pedersen della Lidl Treg ha battuto Matthew van der Poel conquistando la gand Webelgem. Il ciclista danese ha avuto la meglio dopo un bel duello. Grande prestazione per entrambi i corridori che hanno dato tutto in questa giornata facendo scaldare i cuori di coloro che hanno assistito sia in tv che in strada. In terza posizione è giunto Mius della Bora Hasgrohe che ha battuto Jasper Philipsen dell'Helps de Seunic e Jonathan Milan della Lidl Trek. Migliore azzurro Taddei Pogar ha vinto il giro di Catalogna di ciclismo. Lo sloveno ha vinto anche l'ultima tappa spagnola davanti ai francesi Godon e Martin. Sul podio della classifica generale si sono piazzati nell'ordine anche Landa e Bernal. Migliore degli italiani Antonio Tiberi ottavo. Nella settimana internazionale Coppi Bartali Van Boomen della Visma Liase Bike vince la classifica generale. Sul podio Ryan della IF Education Easy Post a 9 secondi e Diego Ulissi della UAE Team Emirai terzo a 10 secondi. Basket il programma delle gare di serie a 1. Pistoia Nutribullet Treviso 83 a 84. Dolomiti Trentino Banco di Sardegna Sassari 87 a 76. Vanoli Canoma Reier Venezia 92 a 90. Dertona Tortona Varese 90 a 80. Carpegna Prosciutto Pesaro Reggio Emilia 87 a 69. Givova Brindisi 76 a 84. Emporio Armani Milano Gevi Napoli 86 a 84. Brescia Virtus Bologna lunedì 25 marzo alle ore 20. NBA Detroit Pistons New Orleans 101 a 114. Los Angeles Clipper Philadelphia 107 a 121. Miami Cleveland 121 a 84. Minnesota Warriors 114 a 110. Milwaukee Oklahoma City Thunder 118 a 93. Los Angeles Lakers Indiana Pisers 150 a 145. Volley 26esima giornata. Donne domenica 24 marzo. Uibai Volley Bustarsizio Prosecco 1 a 3. Volley Bergamo contro Scandici 2 a 3. Megabox Alliance Vero Volley Milano 3 a 0. Aero Italia Gorgonzola Novara 3 a 1. Reale Mutua Chieri Trasporti Pesanti Casal Maggiore 3 a 0. Firenze Oliviero San Bernardo Cuneo 3 a 1. Pinerolo Trentino 3 a 0. Quarta giornata Playoff Alliance Milano Gas Sales Piacenza 3 a 2. Mint Vero Volley Monza Civitanova 2 a 3. Atletica Hakeem Sani Brown ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 100 metri all'Hurricane Collegiate Invitational in scena a Coral Gabless in Florida. Alla Stramilano Half Marathon percorso inedito di 21 km nella prova maschile ha trionfato Anthony che ha chiuso in un'ora e 31 primi davanti a Vincent e Simon. Migliore azzurro Francesco Guerra arrivato decimo nella gara femminile a vincere stata Ancinalu Dessi in un'ora 7 minuti a 55 primi davanti a Cesara e Castro Mattea. Migliore italiana Elisa Palmero giunta quarta. Francesco Fortunato sulla pista di Campobasso della seconda prova dei campionati di società ha firmato il proprio record personale sui 10.000 metri. Secondo Gianluca Picchiottino e terzo Andrea Agrusti. Tra le donne vittoria per Alexandrina Miai davanti a Lucia Barbarossa e la Casciotti. Ginnastica ritmica. Al palaio falirino di Atene le farfalle hanno vinto con i cinque cerchi. Battuta Israele e la Cina. Le azzurre hanno poi festeggiato il secondo posto nell'esercizio misto battute dalla Polonia. Terzo gradino del podio per la Cina. Sofia Raffaelli è salita sul secondo gradino del podio in due occasioni. Alla palla alle spalle di Daniela Munitis e davanti a Eva Brazzalieva. Al cerchio dietro a Elvira Crasbonea e davanti a Liliana Lewiska. Sci Alpino, calendario Coppa del Mondo, Salbach. Le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino sono state cancellate per mal tempo. La Coppa di Disciplina, dopo quella generale di Gigante e quella di Super G, è così andata allo svizzero Marco Odermatt. Sci Freestyle. Germanu de Forehand vincono la Coppa del Mondo di Slopestyle all'EDEX Raghetelli l'ultima gara. Sci Velocità. Valentina Greggio vince i mondiali. Ieri, a causa del forte vento, la giuria ha optato per la cancellazione delle gare. Battuta Martinez e Pearson. Salto con gli sci. Daniel Uber vince nettamente a Planica. Diciottesimo in Sam, migliori azzurro. Carling. Il Canada ha vinto i mondiali femminili. Le padrone di casa si sono imposte sulla Svizzera in finale con il punteggio di 7 a 5. L'Italia, sconfitta dalla Correa del Sud con il punteggio di 6-3, nella finale per il terzo posto di pattinaggio di figura, Charlene Juniard e Marco Fabri hanno conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di pattinaggio di figura in corso a Montreal, in Canada. L'oro alla coppia Madison-Choc-Ivan-Bitz, mentre l'argento è andato a quella formata da Piper Paul Proyer. Canottaggio. L'Italia, con 94 punti, vince il trentottesimo Memorial Paolo d'Aloia. Francesco Cattaneo, forte dei successi conseguiti nella due giorni di finale. 55 medaglie in tutto, 21 ore, 19 argento, 15 bronzi. Si aggiudica così il tradizionale evento internazionale di piedilucco davanti a Grecia e Romania. Nuoto di fondo, in Coppa del Mondo a Samoa Bay, l'Italia ha conquistato le prime tre posizioni nella 10 km maschile con Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri e Dario Veriani, rispettivamente primo, secondo e terzo. Nei 1500 misti, Ginevra Tadeucci, Barbara Pozzo Bon, Paltrinieri e Acerenza sconfitti dalla Francia. Terzo posto per la Germania. Scherma. Le spadiste azzurre hanno vinto la medaglia d'oro nella prova a squadre di Coppa del Mondo a Nanchino, in Cina. Dopo il successo di Giulia Rizzi e il bronzo di Alberta Santuccio nella prova individuale, le due atlete con Rossella Fiamingo e Mara Navarria sono salite di nuovo sul podio, battendo in finale proprio la Cina per 43-34. L'Italia della spada maschile nella Coppa del Mondo a Tbilisi, in Georgia, si arrende al Kazakistan nella finale per il terzo e quarto posto. Vittoria della Francia contro la Repubblica Ceca per 45-34. La squadra di Sciabola maschile stacca il biglietto per Parigi. La qualificazione olimpica è arrivata con la sconfitta della Germania in semifinale contro la Corea del Sud per 45-39. Vittoria per gli Stati Uniti contro la Corea del Sud con il punteggio di 45-30. Terzo posto per la Germania, che ha battuto 45-43 l'Ungheria. Golf. Peter Malnati vince il Balfour Championship in 272 colpi. 12 era da otto anni che l'americano non vinceva un torneo. Secondo a due colpi di distanza Cameron Young e terzo Phillips a meno 9, in coppia con McKenzie. Box. Michael Magnesi perde Masanori Rieskin al Paolo Ramboli di Colleferro. e di conseguenza anche la cintura WBC Silver dei pesi superpiuma. Judo. Asia Tavano conquista il podio del grande slam a Tbilisi nei 78 kg. Vela. Riccardo Pianosi conquista la medaglia d'argento ai campionati europei di Formula Kit. Axel Mazzella è salito sul gradino più alto del podio. Terzo Bruno Lobo. In campo femminile Francia dominante con Lorennolo. Jesse Kappman e Poema New Zealand in prima, seconda e terza posizione. Migliore azzurra Maggie Pescetto, arrivata decima. Tennis da tavolo. Ai campionati italiani assoluti Nicole Arlia e Bobocica conquistano i titoli di singolare. Due notizie per quanto riguarda il rugby. Una buona domenica per quanto riguarda la nostra campania ovale. In regione le nostre compagini si sono fatte valere. In serie maschile vittoria del Napoli a Fragola. In serie B ritorna alla vittoria la sua quarta stagionale il Benevento che va a vincere a Catania. In serie C vittoria ancora per il Napoli a Fragola e per la polisportiva Partenope. Guinness Women's Six Nations. Sabato scorso si è giocato il primo turno. Le nostre azzurre hanno giocato in casa all'Anfranchi di Parma. Sono state battute 48 a 0 dalla Inghilterra. Azzurre che reggono soltanto il primo tempo, che riescono a chiuderlo sullo 0 a 0. L'Inghilterra che dilaga nel secondo tempo. Le nostre azzurre mostrano comunque una buona mischia. Si comportano bene in touch. Provano ad attaccare. Ce la mettono tutta. Ma l'Inghilterra fa valere il fatto che è il numero 1 nel ranking mondiale. Ottima nella salita difensiva. Bravissima a saper trovare gli spazi. Ma soprattutto determinante nei 5 metri. Prossimo appuntamento per le nostre azzurre domenica prossima in Irlanda. Con Irlanda contro Italia. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale sportivo sui canali di Per Sempre News. Vi ringrazio per l'attenzione.